Buongiorno a tutti, ciao man, siamo qui per oggi 31 dicembre, quindi vi do i miei auguri per questo 2016, come vedete sono nella mia Porsche 911, ho dovuto cambiare gli interni perché mi piacevano di più quelli dell'appunto, vabbè, sono qui per darvi i miei auguri di un buon 2016 adesso noi ce ne stiamo andando a pranzo perché c'è fame, c'è fame, poi stanotte si rimangia i miei auguri in radio ve li ho dati ieri, come avete sentito, se l'avete sentito, soprattutto ci siamo divertiti, eravate tantissimi in ascolto, abbiamo fatto delle chiamate, qua c'è un casino di traffico, la gente perché non sta a casa a mangiare invece di occuparmi tutta la strada, oltre comunque a ringraziarvi per tutti gli ascolti che fate ogni giorno in radio volevo così ricordarvi che comunque nel 2016 ci saranno novità sia radiofoniche che sul canale di YouTube, infatti inizieremo un percorso nel 2016 con diversi progetti, ci sarà qualche gaming, faremo qualche vlog, cercheremo di partecipare a qualche evento e commentarvelo così in maniera diversa da come abbiamo fatto fino adesso e soprattutto cercheremo di unire comunque quello che è il mio mondo della radio a quello di YouTube, anche se è abbastanza difficile come già sapete per tutti questi blocchi della musica che YouTube comunque utilizza giustamente, giustamente, ogni volta che si fa un video c'è la rottura di palle che bisogna cercare la colonna sonora adatta che a YouTube vada bene, comunque... vi stavo dicendo che oltre questo fatto della musica ci saranno dei progetti riguardanti i videogiochi, è una cosa che ho sempre voluto intraprendere, non ho mai iniziato, sicuramente nel 2016 un progetto che inizierò, i video degli eventi, come abbiamo sempre fatto negli altri miei canali vecchi, in questo nuovo, lo stesso abbiamo messo da poco il video del Flow Wars Sardinia 2015, ma nel 2016 lo faremo in modo diverso e cercheremo di intervistare, cosa che facevamo già gli anni scorsi, e chi intervistiamo? Non lo so, vedremo, vedremo. Comunque, 31 dicembre 2015, questo 2015 è andato, per me un anno completamente diverso da tutti gli altri, in primis perché comunque la mia famiglia si è allargata, è arrivata Rebecca, la mia erede, abbiamo cambiato casa e forse la ricambieremo, non lo so, speriamo di no, è un anno che mi porta nel 2016 alla quota 30, arrivare a 30 anni, siamo a 30 anni, ragazzi cazzo, 30 anni, cioè che palle 30 anni, gente che ti taglia la strada così a cazzo, vabbè, la gente ha iniziato a bere da ieri sicuramente, comunque se siete arrivati a vedere il video fino a qui vi ringrazio, è il mio primo vlog, ed è anche l'ultimo vlog dell'anno, questo qui è 31 dicembre, ci sono questi cartelli luminosi con le scritte che ti ricordano di mettere la cintura di sicurezza, mentre lo stai guardando hai già fatto un tamponamento, vabbè, comunque noi siamo arrivati, ancora vi auguro un buon capodanno, se dovete bere non guidate, se dovete sparare i botti fatelo con la coscienza, e niente, noi ci risentiamo qua su youtube nel 2016, ormai è moda, anche se ci risentiamo domani è sempre 2016, ormai questa è la battuta del momento, mi raccomando mettete un pollice in su nel video, iscrivetevi al canale, bella man, ciao!